Allora, caro Vittorio, qual è la filosofia della sua vita? Non ho capito. Qual è la filosofia della tua vita? La filosofia del tuo vivere? Qual è stata tutta la tua vita? Io quando ho studiato filosofia mi sono rotto talmente le scatole che non ho più pensato poi alla filosofia. E adesso non ne ho nessuna. Non parliamo della materia, parliamo della tua filosofia di vita. La tua vita è stata dettata da quale traccia? Qual è la tua filosofia di vita? Non vorrei essere volgare ma ho sempre pensato soltanto ai cazzi miei.